Grazie a tutti. Approfondimento Pianeta Oggi, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque, nei giorni scorsi, in occasione di un convegno importante, abbiamo raggiunto uno tra i più noti ricercatori, anche a livello mondiale, per quanto riguarda l'ufologia. Eh sì, parliamo proprio di UFO. Lui è Pier Giorgio Caria e lo ha avvicinato il nostro amico collaboratore Paolo Gavasso. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Allora Pier Giorgio, una domanda nell'ambito ufologico, di cui tu sei uno dei più grandi esperti a livello nazionale e forse anche mondiale, sicuramente anzi anche mondiale. Come è cambiata la ricerca ufologica negli ultimi vent'anni? Visto che anch'io ho seguito abbastanza e ho visto che è cambiata l'approccio al tema. Indubbiamente l'approccio sia a livello di ricerca che a livello sociale è cambiato. Su questo ha favorito tantissimo l'enorme mole di materiale che dai primi anni 90 a oggi è scaturita attraverso testimoni, ricerca e così via. Sono state scoperte, sono emerse molte verità custodite per decenni negli archivi segreti dei vari organismi come la CIA, l'FBI e gli stessi governi. E sicuramente c'è stato anche un cambio generazionale, quindi le nuove generazioni, non solo di appassionati ma anche di ricercatori, hanno, diciamo così, cambiato l'approccio perché al di là del fatto che esista o non esista l'UFO, si è cercato di capire anche chi pilota l'UFO, perché viene e che cosa vuole. Quindi entrare nell'ambito di una tematica più profonda che non sia la mera prova che l'UFO esiste. L'UFO esiste, siccome di prove ne abbiamo tante nei vari settori, oggi ci chiediamo e anche il pubblico è più interessato a scoprire chi sono questi esseri e perché ci visitano. Quindi la motivazione che li spinge a lasciare i loro mondi a venire nel nostro pianeta e anche il perché si comportano in questo modo così strano, perché molte persone a tutt'oggi mi chiedono ma perché non atterrano, che ne so, in piazza del Vaticano o in piazza Duomo a Milano o a New York. Evidentemente delle civiltà più evolute, questa è la risposta che io do, hanno dei parametri di contatto e quindi potremmo chiamarli un po' dei parametri diplomatici fondati su logiche che noi ancora non comprendiamo bene. Quindi questo dimostra, comunque sono segni che appunto l'approccio al tema ufologico, quindi della visita extraterrestre sia in ambito di ricerca sia in ambito sociale, è molto cambiato. Altra domanda, che è una classica domanda del pubblico, perché non atterrano, perché non si mostrano, perché non danno delle prove effettive alla popolazione della loro presenza, della loro reale presenza? Sì, su questo posso dire che c'è una errata percezione in relazione al materiale esistente che nasce principalmente dalla congiura del silenzio, cioè i sistemi di informazione mondiale che sono in mano totalmente ai grandi gruppi di potere, a parte diciamo piccole realtà informative come la vostra, sono in mano ai grandi gruppi di potere e questi gruppi di potere non hanno nessun interesse a rivelare la realtà alla popolazione mondiale. Non solo hanno interesse a non rivelarla, ma addirittura hanno messo in campo, soprattutto attraverso azioni dei servizi di intelligenza, delle metodologie per screditarla, quindi il timore del ridicolo, se vedi l'ufo sei cretino o sei pazzo, e così via. Da ricercatore, ormai da oltre 26 anni sul campo, io ti posso dire, per esperienza diretta e personale, di aver visto con i miei occhi e di aver parlato direttamente con militari, cosmonauti, politici, scienziati, che mi hanno detto in tutta franchezza che loro sanno benissimo che siamo visitati da questi esseri e anche il motivo per cui loro non rivelano, che principalmente il fatto che se loro rivelassero questa visita extraterrestre al mondo, il sistema cambierebbe e quindi i padroni del sistema non vogliono assolutamente che questo cambi, quindi i grandi banchieri, le grandi multinazionali del petrolio, le grandi multinazionali farmaceutiche, le grandi istituzioni religiose, esse stesse, religiose, esse stesse hanno da perdere e dovrebbero cambiare struttura e sistema se al mondo venisse rivelata questa verità, perché nel momento in cui al mondo venisse rivelata questa verità, il mondo chiederebbe a gran voce l'atterraggio di questi esseri e l'atterraggio di questi esseri sarebbe un totale sovvertimento positivo della condizione del mondo che sicuramente bella non è. Abbiamo poi i crop circle, che sono i famosi cerchi nel grano e io so che sei stato da poco anche di nuovo in Inghilterra, con Giorgio e con Giovanni e ci puoi dire qualcosa riguardo gli ultimi crop che sono comparsi quest'anno? Se c'è qualcosa che merita, che venga portato a conoscenza? Sì, sono stato nel mese di agosto in Inghilterra, non è la prima volta che mi recco direttamente nel luogo dove si manifestano le figure più importanti, ormai da oltre 20 anni. Consideriamo che il fenomeno incomincia a comparire in modo, diciamo così, abbastanza erratico intorno agli anni 60, ma diventa sistematico dai primissimi anni 90 e fino a oggi non ha mai cambiato questa attitudine, cioè tutti gli anni puntualmente tra aprile e settembre abbiamo certamente nei campi di grano inglesi, ma non solo di grano anche di altre culture, la manifestazione di queste bellissime figure che sono un agglomerato di simboli e che quindi essendo il simbolo una comunicazione ci danno dei messaggi. Quindi i cerchi nel grano sono un sistema, questa emerge delle ricerche che abbiamo fatto attraverso la quale questi esseri che vengono da altri mondi e anche da altre dimensioni, ma sarebbe un po' complesso spiegare cosa significa questo adesso, hanno deciso di usare questo mezzo innanzitutto per darci un termine di paragone scientifico, perché la comparsa, l'avvistamento di un UFO è un fenomeno errattico, quindi non si può studiare secondo il metodo Galileiano, ma i cerchi nel grano compaiono tutti gli anni, possono essere studiati, misurati, visitati eccetera eccetera, nonostante ciò il tentativo di questi esseri di bypassare la congiura del silenzio non ha sortito grandi risultati perché il pubblico si fa facilmente manipolare, quindi anche notizie stupide, sciocche come quelle che i cerchi nel grano li fanno due vecchietti, hanno largo, trovano largo, larga accoglienza. Che poi saranno anche deceduti più di dieci anni fa perché erano già delle cose che i signori hanno già anziani, mi sembra già 15 anni fa. Oggi avrebbero tra i 90 e i 100 anni, uno è già deceduto, dell'altro non ha notizie, mentre i cerchi nel grano tutti gli anni continuano ad apparire, quindi assolutamente, eppure io a volte parlo con delle persone e dicono ma sono i due vecchietti, ma questi vecchietti sono vecchietti ab eternum, non crepano mai, quindi il problema è che le persone non valutano queste tematiche di interesse rilevante e quindi distrattamente accettano delle palesi sciocchezze, come se fossero verità rivelate. Oltre al fatto che, da quello che so, si possono anche distinguere i falsi dai reali per delle motivazioni anche tecniche e chimiche, no? Sì, assolutamente sì. I cerchi nel grano, come dicevo, essendo un fenomeno reale, quindi può essere studiato, analizzato, dalle ricerche, dalle analisi, sono immerse indubbiamente che il fenomeno viene creato attraverso l'uso di energie che sono coordinate in modo da formare questi simboli, essendo energie molto potenti che realizzano una piegatura plastica della piantina a livello del suolo, quindi la pianta non è rotta, ma è piegata plasticamente, quasi come se fosse di gomma, invece noi sappiamo bene quanto sia tenero e facilmente, diciamo, danneggiabile lo stelo di una pianta di grano, invece queste piante vengono piegate al suolo e continuano a crescere in orizzontale. Queste energie coinvolte generano delle mutazioni genetiche nei semi di grano, che poi si comportano in maniera strana, ad esempio crescono a velocità 5 volte superiore a un seme normale, abbiamo delle microfessurazioni negli steli per cavitazione dovuta a riscaldamento e vaporizzazione del liquido cellulare, abbiamo delle variazioni nella struttura stessa del terreno con presenze di particelle metalliche di microfusione, insomma tutto un insieme di elementi che i due poveri di vecchietti li vorrei vedere a realizzare, cioè cerchi nel grano falsi ci sono, ne vengono fatti tutti gli anni, ma tra il cerchio nel grano falso fatto con assicelle di legno e funi e corde ci sono abissali differenze rispetto a quelli veri, però, ripeto, il pubblico non viene correttamente informato, nessuno fa ricerca o pochissimi, quindi nella totale ignoranza di queste cose le persone non si rendono conto della profondità e della grandiosità di questa comunicazione extraterrestre al mondo che nonostante sia evidentissima passa sotto silenzio. Allora ti ringrazio Pier Giorgio, grazie delle tue esordienti risposte, linea allo studio Paolo Gavasso. Riprendiamo da studio, ringrazio Pier Giorgio Caria, noto ricercatore, reportagista, documentarista, noi ritroveremo anche prossimamente per approfondire questo argomento molto complesso, molto delicato, nel corso dell'intervista sono emersi molti elementi che meritano di essere approfonditi. Ringrazio anche per la collaborazione Paolo Gavasso e a questo punto da Massimo Bonella come sempre l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione. Ringrazio anche per la collaborazione Paolo Gavasso e a questo punto da Massimo Bonella come